Mezzo metro di neve è già caduta nel territorio di Badia Tedalda, in alta Val Merecchia. La situazione è sotto controllo, ma il sindaco Alberto Santucci, presidente dell'Unione dei Comuni della Valtiberina, ha già chiesto alla provincia l'invio di una turbina in previsione dell'arrivo del forte peggioramento meteo. Burian sta per arrivare anche nella nostra penisola. La macchina della protezione civile a retina è pronta a qualsiasi emergenza ed è il presidente della provincia di Arezzo a fare le dovute raccomandazioni. Uno dei problemi che abbiamo avuto qualche anno fa è stato proprio questo. La gente ci si mette in viaggio senza le dovute attrezzature necessarie e ci blocchiamo in mezzo alle strade e impediamo anche ai mezzi spargisale o ai mezzi per togliere la neve di transitare. Questo è fondamentale. Uno si deve mettere in viaggio solo se è fornito di gomme da neve oppure le catene. Abbiamo anche acquistato dei mezzi apposta per liberare le strade dalla neve. Siamo al pezzo, come sempre, attraverso la protezione civile. Siamo in diretto contatto anche con i comuni montani che nel 2012 hanno avuto serie difficoltà. Però siamo riusciti in tempi ragionevoli anche a liberarli dalla neve. Siamo andati anche a liberare quelli fuori provincia. Ricordo bene questa situazione. Siamo allertati e vediamo insomma quello che succederà. Ma penso che più che altro sarà il freddo e il gelo, insomma, dover sopportare e conseguentemente anche stare tutti allerta perché le strade saranno sicuramente chiacciate. Grazie.